Il bonus Staris consiste in un bonus del 40% in base al pagamento che è stato fatto nell'anno 2020. Le attività che potranno usufruirne sono quelle attività che hanno avuto un calo del 30% rispetto all'anno 2019. Abbiamo risposto alle attività e alle associazioni di categoria dopo aver avuto vari incontri in questi mesi. Dovevamo in qualche modo dare una forte risposta anche per le difficoltà del nostro territorio. In questo modo il Sindaco, la Giunta, dà dimostrazione che crede nelle proprie imprese. Quest'azione diciamo che siamo i primi a farla in maniera così forte. Le imprese che potranno usufruire del bonus Tari sono gli alberghi, i ristoranti, le trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense e anche le attività che hanno avuto limitazioni nei centri commerciali dovute al DPCM. Abbiamo cercato di pensare a quelle attività che hanno avuto delle restrizioni, che hanno avuto quindi più difficoltà a lavorare in questi mesi e è importante che abbiano già comunque pagato la Tari e devono essere regolari con i pagamenti precedenti. Verranno rimborsati e l'abbiamo chiamato bonus, anche come abbiamo fatto con il blocco attività o con altre azioni concrete per aiutare le imprese del nostro territorio. Per richiederlo uscirà nel sito del Comune un modulo che sarà da compilare. Ci sarà un'autocertificazione, quindi è fondamentale perché poi verrà fatto un controllo anche dopo che saranno erogati i soldi nei conti correnti, quindi è importante attenersi alle regole del bando. È stato anche fondamentale in precedenza il bonus che è stato dato ai cittadini in difficoltà e anche al bonus per fare la spesa perché abbiamo visto che si è creato un indotto nella città di Pesaro di un milione di euro e l'Ufficio Attività Economiche sta erogando le attività che hanno ricevuto i bonus e notiamo che ci sono molte piccole e medie imprese. Quindi è stato molto importante puntare anche su questo. C'è stata molta disponibilità da parte delle imprese che ci hanno subito mandato il loro indirizzo, il numero telefonico per fare in modo che nella lista che era stata messa nel sito del Comune potessero le persone sapere dove andare a consumare il bonus. Questo è servito e abbiamo visto che in maggioranza sono le piccole e medie imprese. Grazie.